Mascara, ciglia finte, ciglia con la colla, ciglia magnetiche... beh guardate questo tutorial per diventare delle vere cintura nera di ciglia e avere uno sguardo da cerbiatte! ciao e benvenute in questa puntata di pillole di beauty aspettando la race insieme ad oncobeauty nel periodo delle terapie oncologiche spesso una delle conseguenze estetiche è la perdita delle ciglia e delle sopracciglia oggi cercheremo di capire come andare a risolvere il problema della caduta delle ciglia nelle scorse puntate abbiamo visto come utilizzando una matita waterproof o a lunga tenuta sulla rima cigliare possiamo camuffare l'effetto della mancanza delle ciglia applicandola esattamente nella congiunzione della rima cigliare dove nella normalità crescono le ciglia a distanza sarà possibile appunto avere un effetto di sguardo più deciso anche quando mancano totalmente le ciglia ma cosa possiamo fare quando le ciglia stanno ricrescendo oppure si hanno le ciglia in terapia ma sono fragili delicate e gli occhi sono particolarmente sensibili ed infine cosa fare quando mancano totalmente ma per un'occasione un evento o per una giornata vogliamo comunque avere delle ciglia beh non c'è niente da temere abbiamo una marea di soluzioni quando si è in terapia si sa che gli occhi sono estremamente sensibili perché purtroppo alcune terapie come la chemio seccano le mucose e di conseguenza si ha proprio una secchezza oculare è necessario utilizzare matite e mascara oftalmologicamente testati anallergici e delicati sugli occhi in commercio soprattutto in farmacia esistono mascara delicati studiati appositamente per rispettare l'equilibrio degli occhi sensibili e testati oftalmologicamente quando durante le terapie si hanno ancora le ciglia o cadono e ricrescono e sono un po corte possiamo appunto applicare un mascara per ottenere un effetto di allungamento purché applicato con delicatezza facendo attenzione a non graffiare con lo scovolino la palpebra se vogliamo ottenere un effetto di maggior allungamento possiamo anche aspettare qualche istante che si asciughi la prima passata di mascara e in seguito riapplicare una seconda volta per andare ad allungare di più ma cosa possiamo fare se non abbiamo proprio più le ciglia beh torniamo un passo indietro una parte molto importante della nostra skin care e del make up e struccarsi e una zona sensibile come quella degli occhi richiede particolare attenzione per andare a rimuovere il mascara utilizzerò un pad di cotone e della gel miscellare o acqua miscellare è importante però che sia delicata mettendo un po di acqua miscellare sul cotone con un altro dischetto che piego lo vado ad applicare qui sotto l'occhio e con moltissima attenzione vado a rimuovere il mascara evitando di stressare o stropicciare l'occhio e facendo attenzione a non mandare residui di prodotto all'interno dell'occhio come potete vedere siamo riuscite a stroccare completamente entrambi gli occhi rispettando la sensibilità e senza andare ad arrossarli in totale mancanza delle ciglia per una serata un evento in particolare possiamo ricorrere alle ciglia finte tutte le dive del cinema dalla notte dei tempi hanno sempre utilizzato le ciglia finte le ballerine più famose del mondo ma anche tantissime donne normali che nascondono il loro piccolo segreto sulle palpebre in commercio esistono moltissimi tipi di ciglia finte e forme per tutti i gusti dai più voluminosi ai più naturali la caratteristica principale che devono avere le ciglia finte deve essere quella della qualità e utilizzare anche una colla professionale da truccatore per rispettare l'equilibrio dell'occhio e evitare le reazioni allergiche ed infine le ultimissime arrivate in commercio sono le ciglia finte applicabili con l'eyeliner magnetico che non hanno bisogno di colla anche in questo caso scegliete dei brand che abbiano prodotti di qualità e ora vediamo come applicarle per l'applicazione i nostri alleati saranno una pinzetta va bene anche quella che si utilizza per le sopracciglia e uno specchietto con la parte di ingrandimento in modo da vedere bene dove le stiamo applicando in mancanza totale di ciglia è consigliabile un effetto super naturale io in questo momento ho nuovamente le ciglia quindi utilizzerò qualcosina di più allungante però potete tranquillamente decidere voi quale effetto preferite magari una volta utilizzate quelle più naturali un'altra volta utilizzato un effetto più di allungamento volume con molta attenzione vado a prelevare la ciglia dalla sua scatolina e la prendo con la pinzetta in questo modo qui utilizzo una colla professionale apposita per le ciglia finte e vado ad applicarla su tutta la banda che sarà il punto che si incollerà alla nostra palpebra fate attenzione ad applicare una giusta quantità di prodotto che non sia troppo poco o eccessivo perché rischiate che non si attacchino alla pelle come potete vedere abbiamo applicato la nostra colla che in questo momento è ancora però troppo umida dobbiamo aspettare qualche istante che inizi ad attivarsi a contatto con l'aria per poi poterla applicare se applicate la ciglia subito la colla non aderirà e di conseguenza rischiate di sporcare la palpebra e sprecare il prodotto aspettate qualche istante soffiate e agitate un pochino all'aria e vedrete che la colla piano piano inizierà a cambiare colore dopo qualche istante sarà possibile andare ad applicarle con l'aiuto del mio specchietto ingranditore vado ad appoggiare la ciglia partendo da qualche millimetro dopo l'inizio dell'occhio per evitare di andare a creare irritazione avvicinandomi troppo all'incavo appoggio la prima parte qui e piano piano appoggio anche la parte centrale come potete vedere la ciglia va incollata alla zona della palpebra più vicina a dove nascono le ciglia naturali quindi fate attenzione perché la colla aderirà esattamente alla palpebra e alla pelle in questo modo non andrà a creare nessun tipo di danno o problema a la zona dove crescono le ciglia e i bulbi pilliferi delle ciglia ho applicato l'intera banda aiutandomi con la pinzetta magari se vedete qualche zona leggermente che non aderito o che si stacca passate la pinzetta in modo da verificare in questo modo e la nostra applicazione delle ciglia è completata per andare a coprire il colore della colla utilizziamo un eyeliner e andremo piano piano a colorare la zona dove abbiamo applicato la banda e si può vedere la parte diciamo un po chiara bianchina della colla infine se lo desideriamo possiamo anche completare il nostro occhio con una codina di eyeliner e adesso che ne dite di provare di qua con l'eyeliner magnetico sempre più spesso oramai vediamo in commercio le ciglia magnetiche con il loro eyeliner ma come funzionano l'eyeliner magnetico ha all'interno delle microparticelle minerali che una volta steso vanno ad attrarre il magnete o i piccoli magneti che sono presenti sulla banda delle ciglia in questo modo la ciglia aderisce alla palpebra appunto attraverso l'attrazione tra l'eyeliner e il magnete primo passo applicare il nostro eyeliner vi ricordate come si fa l'abbiamo visto nelle scorse puntate prelevo il prodotto facendo attenzione a non eccedere con la quantità ma neanche troppo poco perché proprio grazie a questo eyeliner riusciremo a far aderire le nostre ciglia lasciamo asciugare come potete vedere la linea dell'eyeliner è necessario effettuarla leggermente più spessa in modo da avere abbastanza spazio per far aderire i piccoli magneti ora con molta attenzione e delicatezza andrò a prelevare le ciglia che come potete vedere qui dietro hanno dei piccoli magneti facendo attenzione le prendo proprio dalla parte delle ciglia in modo da evitare che il magnete si attacchi alla pinzetta e delicatamente tiro un pochino il mio occhio sempre mantenendo una piccola distanza quindi di qualche millimetro vado ad appoggiare la ciglia sulla prima parte e poi sul resto in questo modo come potete vedere non si vede nulla questo è il risultato la ciglia ha aderito al suo eyeliner se proviamo con molta attenzione a fare così vedete aderisce completamente e rimarranno così per tutto il giorno naturalmente ogni azienda ha il proprio eyeliner per questo motivo è necessario sempre comprare lo stesso eyeliner della stessa azienda di ciglia in modo da combinare i due prodotti che sono studiati appositamente per essere utilizzati tra di loro e seguite tutte le indicazioni dell'azienda in modo da avere il corretto utilizzo delle ciglia e anche il corretto mantenimento perché è importante lavarle e pulirle nel modo indicato dall'azienda produttrice in questo modo le ciglia dureranno a lungo e potranno essere riutilizzate tante volte accorgimenti simili sono utili anche per le ciglia finte con la colla andando a rimuoverle potete pulirle delicatamente con uno struccante delicato o dell'acqua micellare andare a rimuovere le parti in eccesso di colla e riporle nella loro scatolina le ciglia di buona qualità sono riutilizzabili più volte è importante però mantenerle nel modo corretto siamo giunti alla fine del nostro tutorial e voi che tipo di ciglia preferite? eyeliner magnetico o colla? beh non vi resta che provare e fateci sapere mi raccomando se questo video vi è piaciuto mettete un like e condividete e ci vediamo alla prossima pillola di beauty grazie grazie grazie